La sfida che la città deve prendere è che se vuoi davvero spostare giovani dal più bel centro medievale d'Europa a un quartiere periferico, deve essere un bel quartiere periferico, non può essere un cappannone dipinto di nero e buonanotte, deve essere una roba fatta come va fatta e quindi bisogna anche fare le cose prendendosi il tempo per fare una cosa fatta bene, con i costi giusti insomma, perché dobbiamo essere, d'ora in avanti noi possiamo fare solo proposte di qualità. I ripieghi lasciano il tempo che trovano perché giustamente poi sappiamo che i giovani cercano cose di una qualità che non è quella che cerchiamo noi, che abbiamo un'altra età.